Giornale Radio Nuova I finanziari sono entrati in azione nelle prime ore di giovedì scorso con irruzione in un appartamento all'hotel house, dove è stato tratto in arresto uno dei tre destinatari delle misure cautelari. Un secondo è stato intercettato da una pattuglia mentre si aggirava a piedi per una stradina di campagna vicino al complesso condominiale, mentre il terzo si trovava già recluso nella casa circondariale di Montacuto. Il maltempo ha interessato ieri l'alto maceratese, segnalati disagi a Camerino, Muccia e Valfornace, intervenuti i vigili del fuoco per rami e piante pericolanti o spezzate ed allagamenti, notevole il lavoro della protezione civile e dei carabinieri nei vari comuni della zona. Sono rientrati nella norma i dati sulle acque di Civit Nova Marche nei pressi di Fosso Maranello. Il Dipartimento Arpam di Macerata ha inviato ieri mattina i prospetti riassuntivi dei dati analitici delle acque di balneazione del mese di luglio 2019. I valori limite sono rispettati sia con riferimento al parametro Escherichia-Coli che a quello relativo agli enterococchi intestinali. Tragedia lungo la strada che collega Fermo a Porto San Giorgio. Erano circa le 7 di ieri quando un ragazzo all'altezza del cavalcavia della 14 è sceso dall'auto e si è gettato nel vuoto. Immediata la segnalazione dei presenti fino all'arrivo dei sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio insieme alla polizia stradale e ai carabinieri. Per il giovane residente nell'entroterra Fermano non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso su tutto il territorio provinciale da parte della polizia stradale di Macerata diretta dal commissario capo Tommaso Verdicchio. Denunciato il titolare di una ditta di demolizione settempedana per inquinamento delle falde acquifere con sostanze ferrose. A Monte Cassiano ritrovate auto non registrate nell'area adibita alla vendita. Denunciato un commerciante. Tecnica della rottura dello specchietto denunciato un pregiudicato per truffa. I fatti risalgono alla giornata di giovedì quando i carabinieri di Monte Cosaro, a seguito dell'immediata segnalazione della vittima, sono intervenuti nei confronti di un uomo che si era fatto consegnare come risarcimento del danno subito la somma di euro 250 da una donna. Registrati anche altri due tentativi ma con mezzi diversi. Un piccolo furgone bianco e una Fiat Punto Grigia. In caso di tentativi di truffa segnalare subito l'accaduto al 112 dei carabinieri. Tentato furto all'interno di un veicolo in sosta a Porto Potenza Picena. I carabinieri hanno denunciato due magrebini che nella giornata di ieri hanno cercato di prelevare materiale da un veicolo in sosta. I due sono stati scoperti dal proprietario dell'auto che ha prontamente allertato i militari. Una ragazzina di 15 anni ha riferito di essere stata violentata lo scorso giovedì sera ad Ancona, alla spiaggia del Passetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori della Croce Gialla che hanno portato via la 15enne in Barella per trasferirla in ospedale. A violentare la minorenne sarebbe stato un coetaneo, anche egli italiano. Indagano la squadra mobile di Ancona e la procura dei minori del capoluogo marchigiano. 10 multe per una somma complessiva di oltre 13.000 euro e 700 kg di pesce sequestrato. È questo il bilancio della terza operazione su scala regionale di controllo della filiera della pesca, svolta dalla Guardia Costiera dal 9 all'11 luglio 2019. Circa 40 controlli effettuati sull'intera filiera della pesca con verifiche allo sbarco del pescato, presso i centri di distribuzione, i supermercati, le pescherie e i ristoranti, che hanno portato a 10 sanzioni amministrative. Due le violazioni più ricorrenti, la commercializzazione di prodotto ittico privo della prevista etichettatura o rintracciabilità e la commercializzazione di prodotto ittico al di sotto della taglia minima di cattura, sequestrate varie attrezzature da pesca irregolari. Il segretario nazionale della CGL Maurizio Landini ha preso parte ieri mattina all'Assemblea generale della CGL maceratese, svoltasi nella sala riunioni della provincia di Via Velluti a Piediripa di Macerata. Rendere meno precario il lavoro e ricominciare a fare investimenti nel nostro paese. Occorrono politiche nazionali che garantiscono i diritti all'istruzione, alla salute e al lavoro, ha riferito Landini. Sul fronte ricostruzione post-sisma, il segretario evidenzia la necessità di far partire i lavori, bene la non applicazione delle norme peggiori dello sblocca cantieri. Sono 54 su 67 prevenuti progetti finanziati con il bando 2018 Porfesra per il rilancio produttivo delle zone terremotate marchigiane attraverso il sostegno alla competitività del Made in Italy. I contributi concessi sono pari a 15 milioni di euro e consentiranno di attivare 28 milioni di investimenti proposti dall'aggregazione delle imprese, almeno tre per progetto, che hanno richiesto i contributi. Si prevedono 120 nuove assunzioni, tra stabilizzazioni, contratti nuovi o atipici. Il filo conduttore degli investimenti, come previsto dal bando, sarà l'innovazione applicata nell'agroalimentare, nella meccatronica, nei settori della moda, casa, salute e benessere. Ultima pagina, grande successo per la prima tappa di Risorgi Marche. Parla di location mozzafiato Neck, chiamato da Neri Marco Re ad aprire lo scorso 11 luglio, la terza edizione del festival. Migliaia i fan accorsi a Poggio San Romualdo, tra Fabriano Apiro e Poggio San Vicino, regalando entusiasmo ed allegria. Il prossimo appuntamento con Risorgi Marche, fissato al 15 luglio, addosso Vallonica, tra San Severino Marche e Gagliole, con il concerto a sorpresa. Passiamo allo sport, ufficializzata dalla Commissione, a missione ai campionati della Lega Pallavolo Serie A, la lista delle squadre che prenderanno parte ai campionati di Serie A 2019-2020. Confermata la Super Lega a 13 squadre, a cui prenderà parte naturalmente la Cucine Lube Civitanova. Novità assoluta, inoltre, il campionato di Serie A3, dove si è scritta con il nome Golden Plast Civitanova, la formazione che giocherà all'Eurosuole Forum. Lube Volley ha acquisito il titolo sportivo del volley potentino, con l'obiettivo del progetto Giovani. Santo Stefano Sport protagonista Iesolo nei campionati italiani paralimpici assoluti. Ecco i fantastici quattro. Fabio Staffolani, che ha portato a casa due ori nel peso e nel disco, categoria F36M, rispettivamente con le misure di 7,33 e 20 metri. Giuseppe Mazzolani ha messo in cascina due argenti e un bronzo, rispettivamente nel peso, disco e nel giavellotto, mentre Agnese Ciesla si è portata a casa un argento nel disco e un bronzo nel peso. Il medagliere complessivamente vede dunque i portopotentini tornare da Iesolo con due ori, tre argenti e due bronzi. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 13 luglio, sulle Marche cielo da poco nuvoloso ha temporaneamente coperto con rovesci temporaleschi nelle ore centrali del giorno, venti da deboli sud-occidentali a moderati nord-orientali, temperature in lieve diminuzione dal pomeriggio, mare poco mosso. Domani, domenica 14 luglio, avremo un cielo da sereno o poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso. Basse probabilità di qualche piovasco sui monti, venti deboli nord-orientali, temperature senza variazioni di rilievo, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione del GR breve del sabato. da parte di Marco Morosini in studio, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento.